L'integrazione fra il medico e il centro diagnostico, l'impegnativa elettronica. Si è tenuto nella serata di ieri ad Agropoli un workshop organizzato dall'Istituto Polidiagnostico Santa Chiara e rivolto a tutti i medici della provincia sud di Salerno, al fine di aggiornare i partecipanti sulle ultime tecnologie a disposizione, sui temi di refertazione e sulle soluzioni per l'integrazione tra il medico e il centro diagnostico. Ascoltiamo. L'integrazione fra il medico e il centro diagnostico, l'impegnativa elettronica. E' questo il titolo del workshop organizzato dall'Istituto Polidiagnostico Santa Chiara d'Agropoli nella splendida location del San Francesco Resort. L'evento al quale hanno partecipato numerosi professionisti della provincia sud di Salerno è stato ideato al fine di rendere note le ultime tecnologie messe in campo sui temi di refertazione e sulle soluzioni per l'integrazione tra il medico e il centro diagnostico con evidenti vantaggi per la professione medica e l'utenza. Io come direttore dell'Istituto ho sempre dato privilegio all'informatizzazione perché è molto importante nel comunicare i dati all'esterno. In questo modo noi mandiamo i referti sia via web, sia mandiamo delle email, sia li mandiamo sul telefonino però diciamo che in questo modo noi apriamo un rapporto diretto con i medici prescrittori quindi nel momento in cui ci sta una problematica per il paziente cioè nel momento in cui dobbiamo avvertire subito i medici noi abbiamo un'altra via per poter mandare il referto direttamente in cartella del medico in modo tale che lui lo può acquisire in tempo reale. Naturalmente in questo modo il medico ha tutti i dati del paziente a portata di mano senza che deve spendere del tempo a digitarli manualmente. Grazie mille. Grazie mille.